Probabilmente è una cavolata, però mi sono presa un cannolo con il gelato. C'erano tre gusti, questa era la nocciola, poi c'era il cioccolato e poi volendo il pistacchio ma non l'ho trovato. Ma forse è meglio così, perché il pistacchio è sempre una delusione. Comprato al déco, reparto sul gelato. Prima di mangiarlo bisogna farlo riposare 10 minuti fuori dal frigo, per non sbagliare, mi è fuori da 15 minuti. Andiamo. Merda. Che buono. Che è? E la nocciola solida e poi dentro c'è il gelato. Tipo copertura. Questo intendo per nocciola solida. Il gelato è buono. Però secondo me con la cialda si poteva fare di più, perché non è super croccante. Non è che addirittura sia mollata per il freddo. La cialda è fritta, però non è della consistenza che dovrebbe avere secondo me un cannolo. Dovrebbe essere croccante di più. Però come sfizio si sta. Non lo ricomprerai. Però non è male. Per me è un 7. Non è più alto di così. Alla fine non è un'esplosione. Moda il gelato. Non è facilissimo. Ma sì. Alla fine. Alla fine.